Buongiorno a tutti, mi sentite? Ok, allora vedo che qualcuno ha confermato. Allora, direi di iniziare questa sessione. Allora, innanzitutto benvenuti a quest'ennesima sessione web di formazione di Datacore. Nello specifico oggi parleremo del T-Ring, T-Ring in generale e T-Ring di Datacore in particolare. Prima di iniziare mi presento per chi non mi conoscesse. Mi chiamo Roberto Zaninello e mi occupo di prevendita in Datacore Italia. Questa sessione web durerà l'incirca 30 minuti, quindi come al solito vi pregherei di tenere eventuali domande al termine della sessione. Allora, abbiamo detto che l'argomento della giornata è il T-Ring. Cosa significa fare T-Ring? Allora, il T-Ring, detto in soldoni, è una metodologia per spostare i dati tra dischi aventi caratteristiche differenti in termini di performance. Facciamo un esempio per spiegare meglio questo meccanismo. Io chiaramente all'interno del mio datacenter posso avere tecnologie disco appunto con caratteristiche differenti in termini non solo di capacità ma anche e soprattutto in termini di performance. E potrei avere un'applicazione che in un particolare momento richiede le performance di una particolare tipologia di disco e magari invece in un altro momento può non avere questo tipo di necessità. Ecco quindi che per soddisfare l'esigenza dell'applicazione, cioè di avere performance particolare in quel particolare momento, posso decidere di tenere quei dati dell'applicazione su un particolare disco e posso decidere di tenerli sempre su quella particolare tipologia di disco, ma questo potrebbe essere costoso perché tenere magari occupato un disco performante e quindi anche costoso con dei dati che con dei dati che magari vengono consultati solo a fine mese o addirittura solo a fine anno può essere costoso. Ecco che quindi avere la possibilità di spostare quei dati da quella tipologia di disco quando non serve avere quelle performance e utilizzare quel disco per altre applicazioni può diventare un modo per risparmiare soldi. Quindi ecco che abbiamo già introdotto la valenza economica di questo tipo di tecnologia. Quindi fondamentalmente il tearing, cioè meccanismi per spostare dati tra dischi con performance differenti, serve fondamentalmente per risparmiare soldi. Ci possono essere diversi tipologie di tearing? Assolutamente sì, fondamentalmente le tipologie di tearing sono tre. C'è quella manuale, o meglio c'era quella manuale. Oggi quando si parla di tearing fondamentalmente si parla di tearing automatico. Il tearing manuale significa dover spostare manualmente, cioè dover sapere quando una determinata applicazione ha bisogno di performance, sapere dove si trovano i dati di quell'applicazione, sapere dove andarle a spostare e spostarli manualmente prima che l'applicazione cominci ad accedere ai propri dati. Questa è una metodologia alquanto laboriosa, come potete immaginare, ed è una metodologia che veniva utilizzata quando non c'era chiaramente la tecnologia automatica. Da quando esistono tecniche automatiche di spostamento dei dati, chiaramente non è più utilizzata. L'altra tipologia è quella automatica, che quindi non richiede alcun tipo di intervento manuale, ma in modo assolutamente automatico consente di spostare i dati tra una tipologia di disco e l'altra. Ma l'automatico, il tearing automatico, può essere fatto in due modalità principalmente. In modalità post-processing e in modalità near real-time. Qual è la differenza tra le due? Il post-processing è la tecnologia utilizzata tipicamente dagli hardware vendor, cioè dai vendor di storage di tipo hardware. E quindi, vabbè, li conosciamo tutti, IMC, BM, eccetera, eccetera. Come funziona l'auto-tearing in post-processing? Praticamente durante il giorno lo storage colleziona le statistiche di accesso ai dati, e quindi durante il giorno, cioè durante la normale attività dello storage, lo storage non sposta dati, non fa nessun tipo di spostamento dei dati, semplicemente colleziona tutte queste statistiche, e poi in un secondo momento, in un momento tipicamente di basso utilizzo dello storage, quindi tipicamente notte-tempo, sulla base delle statistiche di accesso collezionate durante il giorno, sposta i blocchi di dati dell'applicazione tra un tier e l'altro. E questa è la modalità post-processing. Abbiamo detto che è la modalità con la quale tipicamente viene fatto l'auto-tearing negli storage di tipo hardware. L'altra possibile modalità è quella near real-time, cioè sposto il dato anche durante il giorno, durante la produzione, e lo sposto sulla base delle esigenze del momento. Queste sono le due differenze. Perché ci sono queste due tecnologie, queste due diverse tecnologie di tiering automatico? Onestamente faccio fatica a dare una risposta, nel senso che a mio modo di vedere non c'è motivo per cui esista la post-processing. O meglio, a mio modo di vedere, l'unico motivo per cui si possa implementare un auto-tearing in post-processing è quello di costringere i clienti a non usarlo. Perché è una metodologia, a mio modo di vedere, deleteria. Perché? Perché spesso sposta il dato in un tier performante quando non serve più per l'applicazione e quando invece l'applicazione avrebbe bisogno di un tier performante, il dato magari si trova in un tier non performante. Quindi è un meccanismo assolutamente deleterio che, ripeto, a mio modo di vedere non ha senso. L'unica giustificazione che posso dare a questo tipo di auto-tearing è appunto che magari chi la propone preferisce vendere soluzioni o il flash ai propri clienti e a questo punto quando ho una soluzione o il flash l'auto-tearing non ha proprio senso usarlo perché i dati sono tutti e costantemente su tier 1 o comunque sullo stessa tipologia di disco. Ecco che infatti la tipologia near real time tipicamente è proposta dai vendor di storage di tipo software come ad esempio Datacore. Datacore si può permettere il lusso di proporre questa tipologia di auto-tearing perché non deve vendere dischi a stato solido non deve vendere tecnologia o il flash e quindi si può permettere di proporre ai clienti una tecnologia funzionante ed efficace di auto-tearing. Perché? Perché appunto consente di spostare i dati tra un tier e l'altro quando effettivamente l'applicazione ha bisogno di avere i dati su un tier più performante. Perché mettere in piedi un meccanismo di tiering e in particolare di auto-tearing? L'abbiamo già anticipato prima fondamentalmente la ragione è di tipo economico o meglio le ragioni sono di tipo economico a cominciare dal fatto che all'interno di un data center non c'è una sola tipologia di dato ci sono tantissime tipologie di dato differenti tra loro con caratteristiche differenti abbiamo fondamentalmente dati di tipo strutturato tipicamente i database ma anche dati di tipo non strutturato che possono essere i file possono essere post elettronica possono essere dati di sistemi documentali o di altro tipo comunque sia la tipologia di dati non strutturati è quella che cresce con una velocità superiore a quella dei dati strutturati e un altro motivo per cui ha senso adottare l'auto-tearing è che ogni dato ha un valore economico le aziende tipicamente conoscono o dovrebbero conoscere qual è il valore economico dei dati dei vari servizi delle varie applicazioni ma un'altra caratteristica è che questo valore economico non è costante nel tempo e questo è importante questo aspetto questo significa che il dato di una particolare applicazione in un particolare momento può avere un valore importante e magari in un istante successivo in un momento successivo questo valore può variare anche di parecchio faccio un esempio l'esempio classico è quello della business intelligence prima dell'elaborazione dei dati di business intelligence l'elaborazione che mi consente di definire una strategia di business per il giorno successivo o per la settimana successiva il mio dato ha un valore consistente perché mi consente appunto di definire la strategia di business al termine dell'elaborazione questo dato può avere un valore decisamente inferiore perché ormai ho definito la strategia di business e quindi quel dato può diventare meno importante ecco che durante prima e durante la fase di elaborazione durante tutta la fase di elaborazione quel dato è economicamente significativo al termine dell'elaborazione quel dato perde quindi di valore economico e quanto può durare l'elaborazione dipende appunto dalla tipologia di azienda dalla tipologia di business intelligence l'elaborazione può durare una notte tipicamente dura una notte un'elaborazione un'attività di business intelligence ma può durare anche più di una notte e quindi questo aspetto è molto importante altri aspetti importanti sono dati che magari sono costretto a conservare non perché servano al business aziendale servano a definire strategie o all'elaborazione di dati aziendali ma perché sono costretto a conservare per motivi legali fiscali o di altro tipo ecco quindi che quel tipo di dato è un dato che definiamo freddo nel senso che non viene acceduto da applicazioni particolari ma deve essere conservato per motivi legali un'altra considerazione importante di tipo economico è la solita il budget IT è sempre più ridotto nel senso che continuamente anno dopo anno viene richiesto all'IT di risparmiare soldi e dobbiamo considerare che il prezzo al gigabyte o il prezzo per IOPS sono delle voci di costo importanti all'interno del budget dell'IT e quindi avere una tecnologia che mi consente di risparmiare da questo punto di vista è sicuramente importante inoltre bisogna anche considerare che attività di migrazione dei dati di tipo manuale da un tier all'altro da uno storage all'altro sicuramente hanno un costo in termini di operatività manuale e in termini anche di tempo cioè dover pianificare la migrazione dei dati di un'applicazione da uno storage all'altro richiede se l'applicazione è critica e magari a questo tipo di applicazione non può essere dato di servizio ecco che pianificare questo tipo di attività sicuramente richiede tempo e costo poi abbiamo anche considerazioni di tipo tecnico da fare legate al tiering chiaramente non solo di tipo economico ad esempio se devo spostare dati manualmente da uno storage all'altro devo essere sicuro di avere le competenze in casa per farlo devo essere sicuro di avere anche la tecnologia che mi consente di fare questo tipo di di attività e un'altra considerazione sono le specifiche tecniche della mia infrastruttura del mio storage appunto ho tutta la competenza o tutte le informazioni che mi servono per poter migrare i dati non sempre questo tipo di competenze e informazioni sono disponibili un'altra considerazione tecnica è legata sempre allo spostamento manuale dei dati da un tiro all'altro per sapere quando un'applicazione richiede performance dal punto di vista dello storage devo in qualche modo tenere costantemente misurata la mia infrastruttura e devo verificare costantemente che i livelli di servizio nei confronti di un'applicazione siano soddisfatti proprio perché devo poter intervenire all'occorrenza manualmente e anche la tecnologia per tenere costantemente monitorate le performance in termini di I.O. ha un costo e quindi queste sono sì considerazioni tecniche ma sono anche considerazioni di tipo economico ecco che quindi arriviamo a parlare dell'auto tiering di datacore intanto abbiamo già definito che è un tiering di tipo automatico e che è un tiering di tipo near real time quindi non in post processing poi cos'altro possiamo dire possiamo dire che datacore consente di definire fino a 15 diversi diverse tipologie di disco all'interno dello stesso pool di dischi quindi io ho la possibilità di spostare dinamicamente blocchi di dati delle mie applicazioni tra 15 diverse tipologie di disco non solo ma essendo datacore una soluzione storage di tipo software non è legata a nessun hardware vendor e quindi questi 15 diversi tipologie di spazio disco possono essere di vendor differenti con tecnologie assolutamente differenti quindi da questo punto di vista veramente c'è la massima flessibilità inoltre quando vado a creare un virtual disc all'interno del mio pool di dischi gestito da datacore ho la possibilità di crearlo con cinque diversi profili e quindi all'interno del mio pool ho n diverse tipologie di disco di tier in base alle performance e posso quindi andare a creare dei virtual disc che posso definire in modo differente a seconda della politica di spostamento dei dati tra i diversi tier ad esempio se definisco un virtual disc di tipo critica decido che quel virtual disc stia costantemente occupando il tier più performante se invece decido di definire un virtual disc di tipo archive decido che i miei dati vadano ad occupare costantemente un tier del tipo più basso invece gli altri tre profili consentono lo spostamento dinamico dei dati tra i tier e il tipo normal in particolare ha la possibilità di spostarsi su tutti le tipologie di tier definite all'interno del mio pool questo fondamentalmente è la possibilità che ho di far spostare o meno i dati all'interno dei tier lo spostamento avviene sulla base di una sorta di mappa di calore cosa significa significa che tutti i miei blocchi all'interno dei miei tier avranno avranno associato un determinato livello di calore chiamiamolo così e basato appunto sulla quantità di accesso al dato da parte dell'applicazione e più caldo è il mio dato cioè maggiori saranno le maggiore sarà l'attività di I.O. dell'applicazione su quel particolare blocco più caldo sarà il dato e a questo punto più caldo è il dato e maggiore sarà il tier che verrà utilizzato per la gestione del dato e considerate che DataCore lavora dinamicamente e in modo costante quindi durante tutta la giornata durante tutta l'attività dello storage DataCore continua a spostare blocchi di dati in continuazione non si ferma mai quindi continua in background ovviamente in modo assolutamente trasparente alle applicazioni continua a spostare a spostare dati quindi per fare per fare un esempio abbiamo un server DataCore abbiamo un host che riceve dal server DataCore un virtual disk il virtual disk è stato definito di tipo di tipo normal che quindi come ho detto prima consente di essere spostato tra tutti i tier all'interno del mio pool e all'interno del pool ad esempio ho definito quattro diversi livelli di tier dal più performante al meno performante questo virtual disk essendo di tipo normal avrà dei blocchi che si troveranno nel tier più performante nel nostro caso i blocchi rossi avrà blocchi un po' meno caldi e quindi che si troveranno in un tier un po' meno performante e man mano che il dato si raffredda verrà tenuto in tier meno performanti però questa questa condizione non è statica nel senso che il il calore di un blocco chiaramente può cambiare a seconda dell'applicazione dell'accesso che fa l'applicazione a quel blocco e quindi il mio blocco mano a mano che cambia il calore cambia la quantità di accessi si sposterà in modo dinamico tra un tier e l'altro all'interno del pool di dischi abbiamo detto che il motivo principale per adottare una tecnologia di questo tipo è il motivo economico come incide in modo particolare l'economia del mio data center una tecnologia di questo tipo supponiamo ad esempio di non avere un auto tiering near real time e quindi ad esempio di non avere dataco in questo caso se ho un database che mi occupa 15 terabyte di spazio disco se non ho un meccanismo di questo tipo questi 15 terabyte dovrò andarli a tenere su tecnologia ma stato solido perché nel momento in cui ho la necessità di usare il mio database dovrò poter garantire le performance che servono all'applicazione al database e per fare questo devo necessariamente avere 15 terabyte di spazio disco performante da dedicare al mio database nel momento in cui invece ho la possibilità di utilizzare un meccanismo di auto tiering efficace funzionante come datacore ecco che posso non avere 15 terabyte di spazio disco performante da dedicare al mio database ma posso fare in modo che il mio database possa migrare in modo automatico tra dischi performanti e costosi e dischi invece meno performanti e meno costosi ecco che il risparmio che riesco a ottenere da una tecnologia di questo tipo può essere anche consistente quindi abbiamo detto che con questo tipo di tecnologia riesco a risparmiare parecchio rispetto a tecnologie tipicamente all flash che invece richiedono l'utilizzo di dischi appunto di tutti i dischi a stato solido magari questi hardware vendor che propongono tecnologie di questo tipo per far risparmiare propongono soluzioni o tecnologie differenti l'esempio classico è quello della deduplica in line cioè loro dicono ma per farvi risparmiare quindi per farvi occupare meno disco costoso vi deduplichiamo il dato alla sorgente cioè prima di essere scritto su disco in modo da occupare poco spazio disco costoso e sì questa potrebbe essere una soluzione interessante se non fosse che dipende dal dato nel senso che l'efficacia della deduplica dipende dalla tipologia del dato il dato può essere deduplicato se è deduplicabile se il dato non è deduplicabile non può essere deduplicato e quindi va a occupare interamente lo spazio disco che serve e quindi richiede in questo caso di avere tutto lo spazio disco a stato solido richiesto l'esempio classico è quello del delle immagini o comunque dei file che per loro natura sono già in qualche modo deduplicati o compressi e questi non possono essere deduplicati tenete presente che anche i database tipicamente si fa fatica a deduplicarli tipicamente possono essere un po' compressi ma anche qui la compressione richiede poi tutta un'attività di compressione decompressione che a volte può incidere sulle performance a questo punto del dato per cui attenzione che la deduplica a nostro modo di vedere non è la soluzione migliore per andare a risparmiare l'auto tearing se appunto implementato in modo efficace è sicuramente una tecnologia molto più efficace perché non dipende dalla tipologia di dato cioè non dipende dalla deduplicabilità del dato a questo punto posso posso beneficiare di una tecnologia di questo tipo assolutamente sì quando posso beneficiare di una tecnologia di questo tipo per quella che è la mia esperienza nel 99% dei casi nel senso che difficilmente un'azienda ha una sola tipologia di dato tipicamente i nostri clienti hanno tante tipologie di dato tante tipologie di applicazioni con esigenze differenti e non costanti nel tempo e a questo punto sicuramente posso trarre beneficio da una tecnologia come l'auto tearing che vi ripeto consente di risparmiare un sacco di soldi e a questo punto io ho terminato non so se avete domande a riguardo allora vedo una domanda che chiede c'è una dimensione minima massima dei blocchi che si spostano allora i blocchi utilizzati da data core per fare questi spostamenti hanno una dimensione costante che sono 128 megabyte quindi data core continua a spostare blocchi in continuazione all'interno dei tear con blocchi di dimensione di 128 megabyte come è calcolato il rapporto 1 a 3 ecco quella è una una media diciamo che la domanda immagino si riferisca sul sul rapporto di 1 a 3 nei database cioè in media i database possono stare per un terzo su dischi performanti perché sono per un terzo caldi dati caldi e per gli altri due terzi invece possono stare su tier meno performanti questa è una media in realtà ci sono casi in cui il rapporto è decisamente più elevato nel senso che non è il 33% la quantità di dati caldi ma addirittura è varia tra il 5 e il 10% ci sono altri casi in cui invece è superiore e quindi non il 33% ma magari il 50% diciamo che assai raramente la quantità di dati caldi di un database è il 100% io non ho mai visto una situazione di questo tipo poi un'altra domanda ecco faccio fatica a capire l'altra domanda cioè parla di space reclamation cioè nel momento in cui libero un blocco da un disco per spostarlo in un tier differente quello spazio disco a questo punto che è stato liberato viene aggiunto al monte di spazio disponibile allora è disponibile un tool data core di assessment per valutare i dati caldi del DB allora tenete presente che con con data core io ho sempre la possibilità di vedere attraverso la console di management di vedere quella che è l'allocazione all'interno di tutto il pool cioè preso un intero pool di dischi in cui ho diversi tier ho la possibilità di vedere l'occupazione di tutto il pool tra i vari tier quanti dati sono occupati nei vari tier e per ogni tier ho la possibilità di vedere questa mappa di calore cioè di vedere quanti sono i dati caldi e quelli freddi non solo ho la possibilità di vedere questa allocazione con relativa mappa di calore per ogni singolo virtual disca all'interno del pool quindi lo posso vedere per l'intero pool di dischi oppure per ogni singolo virtual disk definito all'interno del pool non mi sembra ci siano altre domande c'è una domanda relativa alla quantità di scrittura all'interno di un disco cioè il fatto di continuare a spostare in continuazione i blocchi di dati tra un tier e l'altro causa una maggiore usura del disco beh certamente sì più volte viene riscritto quel disco quel particolare settore del disco o quella particolare cella del disco nel caso in cui si tratti di dischi a stato solido è chiaro che determina una maggiore usura del disco però lasciatemi dire che farlo in real time o farlo in post processing comunque i dati vado a spostarli tra un tier e l'altro solo che nel near real time li sposto quando effettivamente mi servono in post processing tipicamente vado a spostarli quando ormai è tardi quando non mi servono più e quindi per questo motivo diventa meno efficace ma le riscritture all'interno del disco comunque le vado a fare tutte le attività di spostamento comunque le vado a fare poi altre domande chiaramente mi viene chiesto se c'è la possibilità di avere questa presentazione assolutamente sì e poi ci sono delle domande che non mi sono chiare vi invito però nel caso in cui voleste voleste avere approfondimenti a riguardo voleste approfondire la tecnologia di prendere contatto con con data core e a questo punto possiamo organizzare tutti gli approfondimenti del caso attraverso invio di documentazione piuttosto che attraverso sessioni dedicate di approfondimento o anche semplicemente al telefono insomma quindi da questo punto di vista non ci sono non ci sono problemi a questo punto io vi ringrazio per la partecipazione e vi invito a questo punto alla prossima alla prossima sessione di di formazione via web di nuovo grazie e buona giornata a tutti grazie